Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Las Vegas Royale, gioco della Lea, copia e recensione fornitami dalla Ravensburger, con cui ho iniziato una collaborazione che è un piacere e un onore disumano, vi ringrazio veramente di cuore, e mi hanno fornito questa copia di Las Vegas Royale, gioco molto veloce, da mettere davvero, da intavolare praticamente ovunque, che vi vado a presentare a breve, dopo la sigla. Las Vegas Royale è un gioco da 2 a 5 giocatori, età dai 9 ai 10 anni in su, e ogni partita dura circa dai 45 ai 60 minuti, così come è riportato sulla scatola, ed è un gioco molto semplice, fondamentalmente c'è anche da spiegare poco. La versione che vedete qui davanti soprattutto è la versione Royale, che è un ampliamento delle regole ampliate di una prima edizione che fecero, che si chiamava appunto Las Vegas. Voi siete nella città Las Vegas, la città che non dorme mai, e dovete andare in giro per i vari casino a cercare la ricchezza, a fare scommesse, a puntare soldi, a cercare la ricchezza. Ed il gioco è molto semplice perché voi andrete a decidere tutto quanto con il semplice tiro di un dado, che poi vi vado a descrivere, ma veramente ragazzi, il manuale di gioco sono due pagine. Il resto sono tutte cose aggiuntive e opzionali di questa versione Royale, che potete tranquillamente anche non mettere e giocare alla versione Las Vegas normale. Se no, ci sono delle altre plancette che potete andare ad inserire così da diversificare un po' i vari casino per far sì che non sia soltanto un mero tiro di dado per vedere appunto chi fa il punteggio più alto. È un gioco veramente molto veloce e vi faccio vedere un pochino, vi do un po' un'idea, un'infarinatura di come funziona. Prima di tutto, unboxing, confezione molto tranquilla, vedete sotto lo sfondo della bellissima città che non dorme mai, e gioco, ve l'ho detto, della Lea e distribuito da Ravensburger. Classica notte di Las Vegas con l'illuminazione dei vari neon, lucerneon, macchine e cose del genere. Apriamo. Manuale di gioco che fa vedere tutte quante le componenti, il taglio dei soldi, il setup, e ve l'ho detto ragazzi, guardate, fine del gioco, regole e regole, fine del gioco, fine. La variante Las Vegas è qui e poi c'è quella dopo che invece è quella Royal che vi dicevo dove le varie plancette che sono queste qui vanno un po' ad arricchire il gioco. Vedete, c'è tipo il jackpot, c'è il prime time, c'è il 50-50, il 50-50, insomma vanno un pochino ad arricchire il gioco che non diventa un mero tiro di dado ma bisogna anche vedere di posizionarli nel modo giusto e quindi comunque regolamente è molto semplice. Poi sotto abbiamo tutte le cose da defustellare che sono come vedete tutti quanti i casino dove vi fa vedere anche il dado che ci andrà collegato, se tirate un 5 lo mettete qui, se tirate un 4 lo mettete di qua, i vari tagli dei soldi come vedete qua su in cima e poi tutto il resto delle cose che servono per giocare più le plancette opzionali come vi ho detto della variante Royal. E poi abbiamo tutte quante le fish che sono queste qui belle grosse, mica il bando a morire e abbiamo anche una ciotolina dove tirare all'interno i vostri dadi, delle bustine, anzi un mondo di bustine per conservare tutti quanti i token, magari i dadi, le carte, scusate i soldi più che altri e quant'altro, il mazzo dei soldi con i vari tagli e poi uno sbotto di dadi colorati che potete tranquillamente andare a utilizzare anche per altri giochi, sono molto diversificati e sono anche molto carini. Il tutto si basa su 3 o 4 turni, comunque durante questi turni avete tot azioni da fare. Si va ovviamente in senso orario, il gioco in maniera ci dice fate partire per primo il giocatore più anziano, sono indicazioni, potete fare quello che vi pare, anche l'ultimo che ha visto un film horror ad esempio, quello che potete inventare voi, e ci sanno tot dadi in mano, un pool di dadi. Non si vanno a tirare questi dadi dentro la ciotolina, ciascun giocatore va a tirare i propri dadi, lui, poi quello successivo in senso orario e andando a fare la rotazione per un massimo, come vi ho detto, di 5 giocatori, minimo 2, non c'è una modalità solitaria. Si vanno a tirare i dadi e i dadi vanno associati. C'è la possibilità di rilanciare tutti i dadi puntando delle fisce se il risultato non ci è piaciuto, perché i casino, come vi ho detto, sono 6, quelli che poi fanno il giro intorno alla ciotolina dove andate a tirare i dadi. Quindi, se voi fate un tiro e su questo tiro di 4 dadi vi escono 3-3 e un 1, voi dovete andare a scegliere o un 3 o un 1 per i risultati che avete fatto e associarli nel casino di conseguenza. Quindi, se volete prendere i 3, li dovete prendere tutti e 3, quelli che vi sono usciti, e metterli, visto che è un 3, nel casino numerato 3. Se invece volete tenere l'1, dovete prendere semplicemente l'1, metterlo nel casino numero 1 e gli altri 3-3 che vi sono avanzati li mettete da parte per ritirarli nella mano dopo, per nella manche dopo. Quindi, alla fin fine, è un gioco semplicemente di andare a posizionare le cose giuste nel punto giusto e bisogna anche andare a vedere i premi che sono stati scelti, che sono stati, scusate, estratti nel casino dove andate. Nel caso 3, nel casino 3, ci potrebbe essere un premio 1 estratto casualmente che è di 80.000 dollari e un premio per il secondo classificato di 50.000, mentre il terzo classificato non prende niente. Regola vuole che chi ha il maggior numero di dadi, in quel casino lì, vince il primo premio. Chi ha il secondo, vince il secondo e dal terzo in poi non succede niente. Se si arriva a pareggio, i due giocatori che sono arrivati a pareggio invece sono esclusi, non vincono niente. Quindi se non c'è a pareggio. Quindi se un giocatore ha 3-3 e quell'altro giocatore ha 3-3 e li hanno messi tutti e due insieme lì dentro, tutte e due si vanno ad annullare e il giocatore successivo diventa il primo giocatore che prende il primo premio. Quindi come vedete, come regole, è veramente molto facile. In più ci sono le regole di queste plancette, come vi ho detto inizialmente, che sono praticamente entrate nel casino opzionale, che danno appunto questa versione, questa variante royale al gioco, a Las Vegas, dove voi quando andrete a prendere questi dadi, a posizionarli all'interno del casino, potrete attivare una di queste planche, che a decisione vostra le potete mettere tutte, come le potete mettere una, due, tre, a discrezione vostra, il manuale non vi impone niente, è puro divertimento, e andate a prendere queste planche qua giù e andate a vedere cosa succede. Magari c'è un gioco, un gioco nel gioco, un sottogioco, mettiamolo così, che ti fa sembrare di essere un po' a Las Vegas. Vado a giocare alla roulette, vado a giocare al tavolo del faraone, vado a fare una partita a poker, cercando di diversificare un po' di più. Laddove entro, magari c'è da fare una prova secondaria. E poi ci sono i vari dollari di tutti i tagli, e vince alla fine che si porta a casa il premio più grande. Ragazzi, il gioco è veramente facile. In conclusione, ragazzi, questo Las Vegas Royale è il classico gioco anni 80-90, che davvero, davvero, dove portate, portate, fate divertire. Anche perché se la variante royale è leggermente più, no complessa o complicata, comunque un po' più ampollosa a livello di regole, perché c'è da vedere cosa c'è scritto su queste planche, come funzionano, potete usare la versione base togliendo le planche e vi divertite. Anche perché è un tiro al dado, anche se c'ha il suo lato tattico, perché devi andare a vedere dove mettere quei dadi, è inutile che le vai a buttare in un punto dove magari potresti andare a perdere la sfida. Sì, il primo giocatore è quello che c'è al campo libero, però poi gli altri giocatori si muoveranno di conseguenza e ti potrebbero rubare il primo premio, o il secondo, e vince chi fa più punti, chi fa più soldi. Quindi, anche a livello tattico c'è abbastanza. È un gioco che dove lo mettete, lo mettete, farete divertire sicuramente, e secondo me, consiglio spensierato, giocatelo con la variante Royal, perché proprio vi sembrerà veramente di essere a quel punto lì, con i vari casino molto diversificati uno dall'altro. Quindi consigliato assolutamente. Gioco della Lea, distribuito da Ravensburger in Italia, che io ringrazio veramente di cuore per avermi fornito questa copia per la recensione. Grazie, è davvero un onore avere questa possibilità di collaborare con voi. Se volete ordinare il gioco, in sovrimpressione, primo link in descrizione, da Get Your Fun al miglior prezzo sul mercato. Se il gioco non lo trovate in lista, mandate una mail al servizio cliente, diteli, arrivo dal canale di Coridan, è possibile trovare questo gioco? Loro faranno il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato. Quindi a livello di concorrenza con altri siti e shop, lo troverete sicuramente al prezzo più basso. In più, se non lo volete pagare tutto insieme, anche perché il prezzo è contenuto, comunque lo potete pagare in tre rate senza alcun tipo di finanziamento. Quindi ne conviene veramente e nessuna spesa di spedizione. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate e ve l'ho detto. È il classico gioco veloce che dove lo metti, lo metti e fai divertire. Ci passi serata tranquillamente. Ciao ragazzi, alla prossima!